10 birrifici da tutta italia da perugia da macerata dal piemonte o anche da padova come la busa dei briganti birra arcadia food truck cibo buona birra tutta artigianale e tanto divertimento noi siamo birrificio artigianale la villana di gran torto siamo nati nel 2017 produciamo 12 tipologie 12 stili di birra artigianale e il nostro obiettivo nei prossimi anni e di crescere e di portare a conoscenza del grande pubblico le nostre produzioni noi siamo solo la ma siamo un birrificio valsusino quindi in provincia di torino in piemonte facciamo birra artigianali dal 2004 con solamente acqua di montagna quel parco gli alpini un weekend dedicato tutto la birra artigianale buongiorno mattino buongiorno mattino